ma con 200 metri alla vetta ha superato un gruppo di trekking di solofra composto da ragazze e uomini mi ha fatto molto piacere trovarli qua siamo ma secondo me super giù oltre un mare di neve sicuramente dopo un'ora no due ore e zero quattro minuti un'ora in più senza neve siamo arrivati giusto un'ora in più una cosa spettacolare arrivare su 1500 metri di pezzo stupendo il video di solofra con le nuvola una pace siamo arrivati al pizzo ecco Carmine una cosa bellissima Antonio la neve ti ha sepolto si vede giusto è giusto ciao il vesuvio siamo arrivati a questa vetta la neve c'è il vento qua sopra è una spezzeria neve tantissima temperatura siamo a meno cinque stupendo non c'è il vento non c'è il vento non c'è il vento l'ariccio